Ciao, sono Sofia, ho 26 anni. Appassionata di crescita personale, qualche anno fa inizio un percorso per me nuovo, straordinario, che mi insegna ad affiancare le persone nel loro percorso di crescita, di miglioramento, di raggiungimento dei loro obiettivi. Imparo ad utilizzare quegli strumenti, quelle risorse che sono dentro ad ognuno di noi, che spesso dimentichiamo di avere o semplicemente non sappiamo come accederli. E mentre acquisisco sempre più maestria nell'utilizzare questi strumenti, scopro quali sono i miei obiettivi, i miei talenti e i miei valori. Mi diplomo come coach di PNL e di Neurosemantica. Continuo a formarmi e divento anche facilitatrice del metodo Tutto un'altra vita di Lucia Giovannini, perché credo che il cambiamento parte innanzitutto da noi stessi e per migliorarci, per essere la versione migliore di noi stessi, dobbiamo innanzitutto essere disposti a cambiare e cambiare spesso. Credo che siamo noi a dare significati agli eventi, all'esperienza della vita. Quindi perché non trovare i significati più funzionali possibili? Tra i miei obiettivi c'è quello di portare maggior consapevolezza alle persone, raggiungere i cuori e le menti di tutto il mondo. E anche per questo mi sto laureando in lingua e letteratura straniera. Parlo inglese, spagnolo e francese. Voglio condividere le mie esperienze, gli strumenti che ho appreso, voglio condividere ciò che ho imparato su di me, voglio ispirare gli altri per creare un mondo d'amore e di luce. E per fare questo ho bisogno di collaborare con un'azienda che crede in questi obiettivi, che si basi su una crescita continua, su una continua trasformazione. Per questo mi canido per l'homenasmo. Grazie. Ciao.